Siamo a metà del Vangelo di Marco. Non siamo solo a metà fisica del Vangelo, ma siamo a metà di un percorso, di un cammino. Ecco perché il primo particolare che ci colpisce del Vangelo di questa domenica è proprio questo Gesù che sta camminando. Camminare e domandare. Sembra questo un po' l'orizzonte in cui ci collochiamo. Per chi di noi è stato in Terra Santa credo che una delle esperienze più belle sia quella di visitare Cesarea di Filippo, le sorgenti del Giordano, quelle zone che respirano proprio di questa scena che abbiamo imparato a conoscere fin da bambini. Quando io ero un po' più piccolo, nelle nostre chiese parrocchiali, spesso si cantava questo canto. Camminare e domandare. Non è solo una così precisazione che il Vangelo vuole fare, ma è proprio uno stile di vita, quello di Gesù che cammina e domanda. E se volete c'è già una grande risposta per ciascuno di noi, quella del fatto che le domande grandi della vita emergono stando in cammino. E forse il Vangelo ci sta suggerendo anche che le risposte alle nostre domande possono arrivare solo camminando con Gesù. E allora ti possiamo chiedere, ti puoi chiedere come stai a domande, come stai a cammino. E forse invece che lamentarti che le risposte non arrivano, forse devi metterti a camminare e a camminare con Gesù. E forse devi lasciare che quelle domande grandi che ciascuno di noi ha nel cuore e che anche tu hai nel cuore emergano davvero. E Gesù pone delle domande. La prima domanda che pone la conosciamo bene. La gente chi dice che io sia. Non è un sondaggio di opinioni o di gradimento, ma è una domanda più profonda e dice che cosa sta arrivando al cuore della gente di ciò che io sto dicendo, di ciò che io sto narrando. E vedete, a questa risposta ci sono vari livelli di domande. Anche se stiamo leggendo il Vangelo di Marco, che è un Vangelo molto breve, noi sentiamo subito Gesù viene scambiato per Giovanni il Battista, un moralizzatore, uno che dava delle regole ben precise, uno che scuoteva col suo annuncio. Oppure ancora, dicono che sei Elia, colui che sconfigge, affronta gli idoli. E ancora, sei uno dei profeti, un uomo buono, ma abbiamo già sentito parlare di te. Pensate cosa vuol dire questa cosa oggi, questa domanda portata all'oggi. Che cosa si dice oggi di Gesù? Non siamo molto lontani da queste risposte. Qualcuno dice, sì, un grande uomo delle regole, un grande uomo morale. Oppure uno che ti tiene lontano dagli idoli. O ancora, sì, un buon uomo. Sì, quanti dicono che Gesù è stato un uomo davvero eccezionale, rivoluzionario, che ha cambiato la storia, ma poi non credono in lui. E allora ecco perché la domanda di Gesù si fa ancora più forte, più appassionata e diventa, ma voi chi dite che io sia? Non si accontenta Gesù di sapere l'opinione della gente, ciò che ha raggiunto, anche se in maniera falsata, l'annuncio di sé alla gente, ma chiede voi chi dite che io sia. È una domanda diretta, è una domanda personale. A questa domanda risponde Pietro. È lui che con coraggio si sbilancia, è lui che si mette in discussione e forse anche qui il Vangelo ci sta dicendo come si trovano le risposte alle grandi domande, solo mettendosi in gioco. Ed ecco la risposta di Pietro. Tu sei il Cristo. Tu sei il Messia. Tu sei l'atteso di Israele. Tu sei l'atteso da ciascuno di noi, dalla nostra vita. Una risposta eccezionale. Forse Pietro si è chiesto come è stato capace di dare una risposta così bella e così perfetta. Ma il Vangelo va avanti e ci dice che forse non basta nemmeno coinvolgerci per dare la risposta, sbilanciarsi e investire il nostro tempo, la nostra vita per rispondere alle grandi domande. Occorre un passo in più. Ed è l'ultimo passaggio che il Vangelo di questa domenica ci fa fare. Per rispondere alla domanda su chi è davvero Gesù non basta nemmeno così sbilanciarti ma devi conoscerlo e conoscere tutto di Lui. E Gesù cosa fa? Annuncia la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Pietro rimane stranito, lo rimprovera, gli dice questo non ti accadrà mai, lo pone in disparte e gli dice no, 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 Gesù stai sbagliando, non può accettare l'idea di un Messia che perde, che sembra debole agli occhi del mondo. Ed ecco allora il richiamo di Gesù, vai dietro di me, Satana, il tuo posto è dietro di me. Vedete, possiamo concludere in questo modo anche per noi, anche noi siamo chiamati a coinvolgerci, a sbilanciarci, a dare la nostra risposta. Chi è per me Gesù? Ma la risposta più vera verrà dal fatto che ogni giorno, ogni istante, riconosceremo che il nostro posto è quello dietro al Signore. Stare dietro a Gesù è la condizione per rispondere alla domanda fondamentale della nostra vita. Chi è lui per me? E allora ci auguriamo di dare questa risposta e sentiamo nel cuore il Signore che ci dice ancora una volta, seguimi, stai dietro a me.